Bella a tutti raga, bentornati al mio canale Oggi sono qui dopo parecchi mesi che non faccio video, direi Oggi sono andato con la mia ragazza che è dietro le quinte Ah beh, sempre io in mezzo E ho fatto una pazzia, mi sono preso l'iPhone 11 Rosso, da 64GB Perché hai stato già stu'foto dell'E6? Diciamo che era da un... era che volevo premi un telefono Diciamo, con lo schermo più grande Solo che, dato che non lavoravo, non avevo uno stipendio Non avevo la possibilità di comprarmelo Oggi è arrivato il giorno fatidico E mi hanno pagato, insomma, mi è arrivato lo stipendio E appena mi è arrivato lo stipendio ho deciso Di usufruire della mia carta E ovviamente non ho preso la cover originale Apple in negozio Perché costa i trilioni E quindi ho deciso di andare ai cinesi con 10 euro Non me la sono presa Trasparente, tra l'altro Perché per ora... Per ora è così Poi più avanti si vedrà con le cover Dopo... da quanto tempo che non faccio sta cosa Sì, scusate, ci sono anch'io in mezzo ma sto facendo un TikTok Mi sono già memorato per la seconda volta Eccolo qui comunque Adoro, adoro Sono strafelice In dotazione comunque Stranamente Perché penso che non facciano più in dotazione comunque gli accessori Stranamente dove l'ho preso io Hanno ancora tutto in dotazione Ovviamente cuffie Non due adesso Però vabbè Meglio E ovviamente Caricabatterie con la chiavetta per mettere la sim Oglia di giugno mancano mai Ma che cacchio è Ah, eccola qui Boh, ho trovato Non riuscivo a trovare la chiavetta Beh, queste qua non saranno niente Sono felice La pellicola ovviamente non l'ho presa Ma a breve la prenderò Perché quella mi salva le chiappe per modi Ogni volta trascate Via, via Oh, sono da baria Oh, ecco qui Vediamo Adesso change prospettiva Lo faccio per lo standard, sì Ancora quello vecchio Beh, almeno in tutte le app e le cose Sì, ho fatto le requisitioni dai cloud Sì, quello vecchio Prima dell'ultimo che avevo fatto Sì, ho raggiunto Bene, io nel frattempo Svanisco nel nulla Perché mi dovrò installare tutte quante le app Dato che ho perso praticamente un po' di roba E niente Noi ci vediamo al prossimo video Lasciate il like Commentate Iscrivetevi Attivate la campanella E noi ci vediamo al prossimo video Ciao